Benvenuti in JB Cars. Oggi vi parlo di nuova Discovery Sport. Nuova Discovery Sport porta con sé soprattutto la novità di tutti i motori completamente elettrificati. Dal mild hybrid con un piccolo motore elettrico che va ad aiutare l'efficienza e i consumi del motore termico, sia diesel che benzina, al plug-in che vi permette di fare fino a 60 km totalmente in mobilità elettrica, arrivare a casa ed attaccare la spina. La catena cinematica del motore plug-in è formata da un 1500 turbo benzina sull'asse anteriore da 200 CV e un motore elettrico sull'asse posteriore da 104 CV. La vettura all'occorrenza decide quale motore utilizzare per essere più efficiente oppure io autonomamente posso premere il tasto EV Electric Vehicle per sfruttare tutti quei 60 km di autonomia elettrica che se sono il mio fabbisogno giornaliero mi permettono di guidare sempre e solo una vettura elettrica. Quando devo fare un viaggio lungo ho a disposizione un motore benzina normale per avere un'autonomia illimitata. La nuova Discovery Sport riceve il restyling del frontale con i nuovi fari a LED sia anteriori che posteriori che ricordano il family feeling di casa Land Rover. Una dotazione di serie sempre più corposa per esempio su tutta la gamma Jaguar Land Rover e anche quindi su Discovery Sport abbiamo le telecamere a 360 gradi che vi fanno vedere una visione virtuale dall'esterno della vettura sia per il fuoristrada che per il parcheggio cittadino. E anche su Discovery Sport le novità non si fermano all'esterno ma soprattutto all'interno. Il nuovo volante della gamma Land Rover che anche qui ha il badge Discovery che rappresenta il modello e anche qui il sistema di infotainment PV che è nato su Defender e adesso lo mettiamo su tutta la gamma Jaguar Land Rover. Molto più veloce e molto più performante e vi permette di scaricare gli aggiornamenti direttamente da casa con la sim che Land Rover dà per i tre anni di garanzia. Quando escono delle novità per le centraline e anche per il sistema di infotainment li potete scaricare senza dover passare direttamente dall'officina. Come tutte le vetture Jaguar Land Rover vi permettono di monitorare e interagire con la vettura direttamente dall'applicazione in control Land Rover Remote per accenderla, spegnerla, far partire il motore, riscaldare l'auto o raffrescarla d'estate. Nuova Discovery Sport è una vettura molto razionale, una vettura spaziosa per il tempo libero, per la famiglia, per lo sport ma soprattutto anche per il lavoro. Vi ricordo che è disponibile anche con l'immatricolazione autocarro senza montare alcuna paratia nel bagagliaio. Vi aspettiamo a scoprirla, prenotate il vostro test drive presso JB Cars a Monza. Grazie a tutti.